Una grandissima soddisfazione, è un grande orgoglio di questo gruppo, di questi ragazzotti spacciati. Abbiamo iniziato un nostro percorso ed è vero, noi seguiamo quello che è la nostra strada e mi fa piacere che questi ragazzi facciano provare emozioni, non solo le provano loro, ma le facciano provare tutti quanti. Noi siamo orgogliosi della maglia azzurra, questo spero che si sia capito e cerchiamo di mettere il massimo per rappresentare il nostro Paese.